Non voglio che sia un interrogatorio questo, perché non è un interrogatorio e non voglio sostituirmi ai magistrati, però devo dire che pormi di fronte, non è facile pormi di fronte alla persona che sia vero quello che dice insieme ad altre persone, in qualche modo ha provocato un enorme dolore ad una famiglia e probabilmente ha distrutto la vita, le aspirazioni, i desideri di una ragazzina di 15 anni, lei dice in qualche modo di conoscere come è stato organizzato il sequestro, il movente e che molto probabilmente Emanuela è viva, io partirei proprio da questo, delle persone appartenenti al gruppo le avrebbero detto che Emanuela è stata portata in una comunità islamica a Milano fondata da un italiano che aveva degli importanti legami con la grande moschea di Parigi, è lei che deve farla diventare credibile, dire qualcosa in più che ci aiuti ad arrivare a Emanuela se Emanuela veramente è viva. Io tra l'83 e l'85 ero in carcere per due anni, quindi posso solo riferire del relato, se io avessi saputo di più lo avrei già preso a conoscenza della procura. Ma c'è una persona che le l'ha detto? Io dovrei riparlare con quella persona. Basterebbe dire chi è? Il fatto che io ho dato la mia parola a suo tempo, io dovrei tradire la parola data, io non mi sarei mai presentato se fossi un assassino, perché un assassino è un'altra tipologia di persona, non si presenta. Perché ha aspettato 30 anni? Perché è cambiato il pontefice, si dice, non lo dico io, ma si dice che non è curiale e questo dovrebbe psicologicamente influire su certe persone che a torto ragione vogliano credere in questo, che possono raccontare che in curia ci sarà un po' più di rispetto. Quindi per arrivare alla verità bisognerà sempre aspettare, aspettare. Quando io fornisco i sufficienti indizi... Non è un gioco, non è un rebus, io ti fornisco questo e il resto te lo trovi da solo. E ora che ora... No, intanto stiamo mettendo in dubbio... Ci sono state delle personalità all'interno del Vaticano che ti hanno ingaggiato per fare questo lavoro? Più sfumato, è più sfumato. Pochi ecclesiastici minori tra l'altro, secondo o terzo grado, e pochi laici insieme hanno convenuto di operare, non c'era un mandante che... Non si arriverebbe alla risoluzione dopo 30 anni se si sapesse chi sono questi pochi laici e questi pochi ecclesiastici? Non sono quel tipo di persona che tradisce la parola. Però se è il tipo di persona che fa parte di un rapimento, che organizza un rapimento... Era per ottenere determinati risultati in un certo ambito politico che concerne la città del Vaticano, i suoi rapporti con altri stati. E beh, la scomparsa di una ragazzina poteva avere questa forza? Perché è stata scelta Emanuela? Non era stata scelta Emanuela. C'era tutto un ventaglio... Non era casuale però, perché la cosa era stata organizzata nel tempo. C'erano varie ragazze, questo l'ho raccontato in procura, c'erano delle donne, c'erano delle signore... Ma non è stata scelta per la sua cittadinanza? Certo, certo. Si era anche pensato a Cristina, la minore, ma la Cristina, come altre ragazze, non avevano quella predisposizione caratteriale per poter con loro dialogare e simulare. Questo non ho detto che la ragazza sia... La Emanuela abbia delle caratteristiche da disprezzare. Al contrario, proprio per la sua generosità, per il suo essere aperto, per la sua fresca... Puoi far dire cose del genere? Prego. Non puoi parlare così di Emanuela? L'unica cosa di cui sono convinto è che te non sei entrato mai in contatto con Emanuela. Ci ne avevo detto... Hai raccontato il rapimento dicendo che Emanuela aveva accettato questa cosa perché le avevate detto che a casa sapevano che lei si sarebbe tutta assentare due o tre giorni. Ecco, già questo mi basta per capire che non hai avuto nessun tipo di contatto con Emanuela. Io la conoscevo molto bene Emanuela. Emanuela non usciva neanche la sera, non avrebbe mai, mai e poi mai, accettato di restare fuori casa anche una notte perché un estraneo le diceva state tranquilla perché il tuo padre già lo sa. Ma questo vuol dire prendere in giro la gente. Tu ragioni da familiare o da giornalista col senno di dopo, ma se tu devi pianificare un sequestro, come puoi pensare che la ragazza debba con un estraneo, all'appuntamento con un estraneo, un conto è fermarlo. Non era un appuntamento, secondo te Emanuela si è andata da sola, ha accettato che era d'accordo con questi quattro personaggi e come mai è insistito tanto fino all'ultimo che chi l'accompagnasse a scuola, per colpa mia non l'ho accompagnata, altrimenti io l'avrei accompagnata. Per rispettare gli orari. Abbiamo litigato quel giorno quasi, perché lei c'era caldo, non voleva prendere l'autos, se era sano che andava ad andare a scuola, abbiamo quasi discusso, l'ho mandato a quel paese, ha sbattuto la porta e se n'è andata. Lei dice di essere stato uno dei telefonisti, quindi avrà sicuramente chiamato anche a casa nostra. C'è un particolare che ci disse l'americano, qualcosa che era successo a Emanuela, i primi giorni, fisicamente, è una cosa che non è mai uscita, non l'ha detta mai nessuno, però ci disse anche di stare tranquilli perché a fianco a lei c'era una persona e non può non ricordarsi di questo particolare. Noi possiamo anche essere a conoscenza di ciò, ma ripeto, è uno scenario vasto di dettagli e minuti. No, no, non parlo scenario vasto, io parlo di quelle poche telefonate che sono state fatte a casa nostra. C'era purtroppo, io l'ho appreso in procura, veramente soltanto quest'anno, molte persone che si sostituivano a noi, imitando la voce, ho sentito i nastri. No, perché ogni volta che chiamava faceva riferimento alla precedente telefonata, proprio per dare valore a quello che diceva. Senta, io ho già fatto presente, tutte le cabine. No, no, quelle cabine… Le cabine da cui certe telefonate sono partite. Però a casa nostra ne ha fatte poche. Mi può sfuggire. Eh, certo, però… È un dettaglio… Sì, adesso le dovessi fare delle domande, di fatti che le dovrebbe conoscere. Ora, in questa sede qualcosa lei sicuramente non sa… Ma è certo, è ovvio. Ma però, 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 ciò non dimostra che lei non è il fratello dell'Orlandi, non ne ha conoscenza di tante cose. No, voglio dire, quello era un particolare… No, mi sfugge. Io chiaramente non faccio i nomi, però sappiano le persone a cui io mi rivolgo che le indagini comunque nel loro sviluppo possono arrivare ad identificarvi, per cui è bene presentarvi e avere l'attenuante, perlomeno, del fatto che vi siete presentati.